Consegna carico L'ammazza ci ha, il ferma... Terroristi Questo non mi piace Beh, è un piacere conoscerti Dimmi, che cosa ci hai portato? Oh, incredibile! Ci sarà di grande aiuto Grazie, non riconoscerai nemmeno la stazione secondaria quando avremo finito Grazie Grazie Va bene Ora non ci resta che collegarci alla rete Giusto? Grazie È bello fare davvero parte delle UCA Siamo rimasti letteralmente isolati per troppo tempo Non vedo l'ora di collegarmi di nuovo con il QG Ci vorrà un po' di tempo per sistemare questo posto, ma... Mi sento più carico che mai Non deluderemo il nostro paese Grazie, Sam E buona fortuna Non che tu ne abbia bisogno Raggiungerai la costa ovest in un lampo Bravo, Sam Poi dovrai estendere la rete al centro logistico a nord della città E ora sarebbe il momento perfetto per farlo Hanno appena inviato un SOS Stiamo ancora ricevendo informazioni Ma sembra che ci sia stato un incidente E che i feriti abbiano bisogno d'aiuto Controlla il terminale per i dettagli Ben fatto Nuovo ordine disponibile Questa è una corazza per spalle e gambe L'unica pecca è che non puoi usarla per il trasporto di carichi Dovrai valutare i pro e i contro Sam, ricorda Controlla la tua attrezzatura e porta solo l'essenziale Per arrivare a destinazione il prima possibile Ordine assegnato Parametri di consegna aggiornati Tempo limite in...